ciao a tutti e benvenuti al venticinquesimo episodio del pagellone da 0 a 10 oggi andremo ad analizzare il turno infrasettimanale la venticinquesima giornata di serie a prima di iniziare vi ricordo di lasciare mi piace al video di iscrivervi al canale e di passare nel link in descrizione che vi porta la nostra pagina instagram detto questo iniziamo voto 0 alla lega serie al consiglio di lega serie a che in questa giornata se nuovamente contraddistinto stiamo parlando ovviamente del caso lazio torino partita che non è stata giocata ma che un caso ancora più diverso e ancora più se vogliamo facilmente intuibile di juve napoli di dello scorso ottobre in questo caso il torino non avendo già giocato la partita col crotone ed essendo in quarantena fino al giorno stesso fino a mezzanotte la lega serie a ha deciso con un consiglio straordinario di farla giocare lo stesso la partita in modo abbastanza stupido perché poi tra una cosa e l'altra sapremo che tra vari ricorsi appelli il 90 per cento la partita si rigiocherà quindi si è persi perderà tempo inutile perché soprattutto in questa parte in cui sia la lazio sia che il toro stanno lottando per degli obiettivi il toro per la salvezza visto che in questo momento con due partite in meno sarebbe retrocessa e la lazio per un post in champions o in europa league diciamo che tutta questa manfrina risultata inutile e si poteva tranquillamente visto che si sapeva già che da una settimana che il torino non si sarebbe presentato si poteva rinviarla di un giorno in avanti quindi giocarla mercoledì oppure si poteva si poteva rinviarla subito senza fare questa cosa che comunque penalizza il calcio nel all'estero il calcio italiano all'estero voto 1 al benevento benevento che perde 3 a 0 col verona benevento che non vince da 9 partite benevento che in una condizione preoccupante perché non riesce a fare più punti è una squadra superiore ad altre ma rispetto a quelle dietro che stanno iniziando a portare a casa punti importanti sta facendo molta fatica perché a parte parma e crotone torino cagliari e lo spezia sono squadre più motivati in questo momento sono squadre che hanno più forza mentale torino che da quando ha cambiato mister ancora imbattuto cagliari ha vinto da con semplice ha vinto due partite consecutive molto importanti spezia che comunque dimostra sempre di giocare il suo calcio con qualunque squadre benevento che invece ultimamente ha cambiato modo di giocare gioca in maniera più difensiva gioca in maniera di aspettare le altre squadre ripartire in contropiede ma è un benevento che fa tanta tanta fatica e si sta vedendo nei risultati vedremo se riusciranno a reagire magari tornando al modo di giocare che c'era a inizio anno quando il benevento era più sfrontato ed attaccava anche contro le big e alcune squadre l'ha messa in difficoltà come la juve voto 2 al crotone crotone che perde 5 a 1 con l'atalanta crotone che ha appena cambiato guida tecnica arriva a cersei cosmi crotone non doveva vincere questa partita perché l'atalante è nettamente superiore ma nel momento in cui si è trovato 1 a 1 per un errore tra romero e freuler magari potevi gestirla meglio risultato pesante vedremo il crotone perché questa domenica giocherà uno scontro diretto col torino quindi se dovesse perdere quello si allontanerebbe decisivamente dalla salvezza ma se dovesse vincere sarebbe un bel passo in avanti vedremo la partita come si svolgerà di sicuro il crotone deve cambiare passo per cercare una salvezza per cercare questo miracolo sportivo vedremo cosa farà se cosmi riuscirà ad imprimere la sua cattiveria anche nei giocatori voto 3 allo spezia spezia che perde 3 a 0 con la juve spezia che non ha giocato neanche così male risultato troppo pesante per quello che ha dimostrato lo spezia spezia che anche sbagliato un rigore all'ultima azione primo tempo giocato alla pari con la juve poi nel secondo tempo la juve ha fatto dei cambi azzeccati pierlo ha fatto dei cambi azzeccati spezia che con la stanchezza perché comunque quando giochi con la juve devi correre soprattutto per come gioca lo spezia il risultato che con i cambi con nuovi giocatori freschi con la qualità dei giocatori freschi subentrati hanno portato al gol della juve che poi praticamente ha dilagato con un risultato troppo pesante per quello che ha dimostrato lo spezia in campo voto 4 al bologna bologna che come ha detto mihalovic ogni volta che c'è da fare il salto di qualità fallisce sempre con la partita bologna che perde 1 a 0 col cagliari partita molto sporca piena di contrasti poca azioni pochi tiri in porta ma alla fine il bologna merita la sconfitta perché il cagliari ha giocato meglio bologna che comunque farà un altro campionato mediocre sarà meta classifica però si può aspettare un salto di qualità da una squadra che ha ha delle buone individualità pecca qualcosa in avanti come prima punta e forse qualcosa in difesa ma anche con l'arrivo di suma euro che comunque ha sempre dimostrato di essere un gran difensor quando ha giocato in serie a anche al genoa e con questo antov che ha esordito bene in serie a vedremo se la difesa si metterà a posto per poi andare a puntare a un posto il prossimo anno in europa league magari intervenendo sul mercato prendendo una prima punta fisica voto 5 al parma parma che ultimamente sta giocando bene ha giocato bene nelle ultime due partite che ha pareggiato ha giocato bene contro l'inter che dove però non è riuscito a portare a casa neanche un punto ha perso 2 a 1 parma che se continuasse a giocare così potrebbe portare a casa qualche punto importante vedremo se la continuità perché a questo punto hai giocato bene ma alla fine hai raccolto due punti in tre partite se il morale della squadra ancora alto perché comunque il parma ha dimostrato di essere una squadra molto alta allenante mancano i giocatori che l'anno scorso l'hanno portata negli ultimi due anni l'hanno portata una salvezza non c'è più bruno alves c'è bruno alves ma non è più un titolare fisso e comunque è spesso infortunato giarvigno è infortunato sempre poi i soliti problemi in attacco molta sfortuna perché comunque hai tanti attaccanti ma si sono rotti tutti insieme perché inglese che si è rotto cornelius che si è rotto pelle che è rientrato se era infortunato ha fatto metà della ha fatto pochi minuti della partita ai zirzi che si è infortunato quindi un parma che è dovuto nuovamente mettere come prima punta cucca vedremo se dalle prossime giornate contro avversari comunque più abbordabili dell'inter riuscirà a portare a casa dei punti perché anche ultimamente va dimostrato di saper giocare bene anche se dopo essere dato in vantaggio in tutte le scorse due partite per 2 a 0 poi sempre è stata recuperata sul risultato di 2 a 2 voto 6 all'inter inter che vince soffrendo contro il parma vince da 1 punti importantissimi perché si allontanano dal milan che ha pareggiato in questa giornata contro l'udinese inter che porta a casa i punti la prestazione un po' meno buon unico giocatore che si è contraddistinto in modo positivo sanchez e lukaku e la difesa che comunque ha difeso bene inter diciamo che si deve accontentare anche di partite giocate meno bene ma con risultato massimo voto 7 alla juve juve che vince juve che fa quello che doveva fare vince 3 a 0 con lo spezia primo tempo non positivo primo tempo dove la juve dimostrato ancora di essere una squadra non mentalmente forte secondo tempo questa volta bernardeschi ha cambiato la partita in modo positivo ha fatto praticamente due assist possiamo dire assist sul gol di morate assist sul gol di chiesa approfittato della mancanza di attenzione di vignali e bernardeschi praticamente ha fatto chiudere la partita poi dove il 3 a 0 è stato fatto su un contropiede juve che porta a casa tre punti importanti tiene il passo del milan e dell'inter e dell'atalanta soprattutto vedremo quando dovrà recuperare la partita con il napoli 17 17 marzo come si comporterà se riuscirà a portare a casa dei punti che potrebbero portarla ulteriormente vicino alla vetta della classifica o almeno al secondo posto voto 8 al cagliari e cagliari che fa seconda vittoria consecutiva in due panchi in due partite al cui è stata allenata da semplici cagliari che questa volta a differenza della scorsa gara dove ha giocato con un crotone che come rosa e inferiore ha giocato con una squadra più o meno alla pari contro il bologna cagliari che ha dimostrato una grande solidità difensiva con la difesa a tre con la presenza dei rugani e godin e adesso poi clavan che è stato il successore diciamo dalla scorsa partita di ceppitelli quindi un cagliari che dimostra una grande solidità difensiva in attacco bene manca se simeone non si è ancora riuscito a tornare in forma dall'inizio anno doveva fatto abbastanza bene poi è calato in moto impressionante cagliari che comunque in questo momento dopo due vittorie consecutive si porta in un quarto ultimo quindi salva anche se il torino comunque ha due partite in meno da da giocare vedremo il cagliari come come continuerà la striscia e se porterà altri appunti altri punti a casa anche contro squadre magari un po più forti ma soprattutto è un cagliari che deve crescere soprattutto perché è una rosa da europa league tranquillamente quindi è un cagliari che non deve stare in quella posizione di classifica lo deve dimostrare giocando delle grandi partite come ultimamente ha fatto anche questa partita è stata sporca il cagliari ha dimostrato di avere molta più molto più cattiveria nel recuperare i palloni e alla fine il risultato è dalla loro parte voto 9 all'atalanta atalanta che vince 5 1 col crotone atalanta che gioca bene atalanta che comunque la conosciamo pareggia a un certo punto ha pareggiato 1 a 1 il crotonico gol di simi sul errore di romero e freuler poi un'atalanta straripante nel secondo tempo riuscita a fare altri quattro golle quindi atalanta che porta tre punti a casa doveva vincere ha vinto vince convincendo e comunque è strascinata da dei grandi giocatori soprattutto gosens che è arrivata al nono gol in campionato quindi segno più di molti attaccanti in serie a ed è un'atalanta che vedremo se riuscirà a centrare anche quest'anno un posto in champions league vuoto 10 all'elasverona e lasverona che continua a stupire vince 3 0 col benevento una partita difficile segno tre gol segno a lasagna ed è un'elasverona che crede ancora un posto in un qualche competizione europea soprattutto per come gioca perché quest'anno è per il mercato che ha fatto perché nel mercato di gennaio forse è stata la squadra migliore comunque una delle tre migliori per il mercato di gennaio è arrivato lasagna che si è dimostrato un buon un buon attaccante anche se pecca sempre sotto il punto della finalizzazione è arrivato sturaro che è un buon è un buon ricambio un buon titolare anche per l'elasverona quindi vedremo come concluderà la stagione della sverona di sicuro questi punti sono importanti e battuto il benevento che spesso ha messo in difficoltà molte squadre anche davanti all'elas in campionato ma che ultimamente è un benevento un po' fuori forma e la sverona che porta a casa tre punti importanti accorcia notevolmente la classifica detto questo io vi ricordo di passare dalla pagina instagram di attivare la campanella perché settimana prossima usciranno due video sul canale uno della nuova serie noi ci rivediamo settimana prossima ciao a tutti